False, calunniose e alarmistiche, così i medici del reparto di neurochirurgia del Policlinico di Bari, diretto dal professor Antonio De Tommasi, definiscono le notizie diffuse da un quotidiano locale e da un emittente regionale. Notizie in cui si dà voce a due anestesisti e a un medico che lavorano nel reparto di neurochirurgia, che hanno denunciato in un dossier una serie di morti sospette e presunti casi di mala sanità. Nella lettera si sottolinea che il personale si prodiga incessantemente, nonostante la grave carenza di personale sottorganico, sia nella sua componente medica che infermieristica, per dare all'utenza il miglior servizio possibile. Inoltre, nella lettera inviata ai direttori generale sanitario e amministrativo, i medici lamentano la frustrazione che tali calunni hanno provocato ed è per amore della verità che hanno pregato il direttore generale Dattoli di procedere ad una verifica interna, assicurando anche la loro massima collaborazione. Un invito già messo in pratica da Dattoli che, come ha confermato ai nostri microfoni, ha già istituito una commissione di verifica interna. Assolutamente è stata costruita una commissione di inchiesta, costruita da medici collegali, esperti di regioni sanitarie, di epidemiologia statistica e anestesisti, che ha 15 giorni di tempo per giungere alle conclusioni. Circa l'analisi dei casi specifici citati in questa lettera, che non abbiamo ancora avuto modo di leggere, perché allo Stato non è pervenuta né in direzione generale, né in direzione sanitaria, né ai sindacati, perché sembrava che fosse una nota giù dei sindacati, ma non è una nota dei sindacati. Pare che non abbiamo ancora contezza di questa segnalazione, che però è giunta sulla stampa e quindi ha determinato questi echi, questo clamore. Va ricordato che il repatto sotto accusa è quello diretto, sino a qualche mese fa, dal professor Pasquale Ciapetta, sospeso dall'azienda dopo il coinvolgimento nell'inchiesta per corruzione con i fratelli Giampaolo e Claudio Tarantini. No comment dalla Procura di Bari intanto sull'apertura di un fascicolo d'inchiesta sulla vicenda.